L'Europa è un film coraggioso e al tempo stesso incosciente. Racconta la storia di Kamal, un giovane ragazzo iracheno che in una notte di luglio attraversa il confine tra la Turchia e la Bulgaria insieme a un gruppo di migranti e dovrà sopravvivere per tre notti e tre giorni all'interno dei boschi del sud della Bulgaria. Durante la preparazione con Haider, il regista del film, ci siamo confrontati a lungo sul giusto modo per raccontare questa storia. Haider voleva un film interamente in primo piano, con la macchina a mano ci è sembrata il modo più naturale e più intimo per raccontare questa storia e quindi abbiamo iniziato a sviluppare le scene sul piano sequenza come linguaggio. Quasi tutto il film è girato in long take, per cui anche in preparazione abbiamo dovuto fare un grosso lavoro di interpretazione delle scene, di messa in scena, individuare dei keyframe nei quali arrivare e per il resto dovevamo però anche lasciare spazio all'improvvisazione, gesti spontanei e all'interazione tra Kamal e l'ambiente circostante. Ci siamo mossi su due polarità per trovare il giusto punto di vista e la giusta sensibilità della macchina. Da un lato uno sguardo, seppur avvicinato, oggettivo, quasi antropologico, di osservazione dei minimi gesti, delle minime espressioni e reazioni di Kamal. Cercare di tenere sempre il personaggio nel frame è diventato anche una sfida pratica, viste le location e gli ambienti che abbiamo dovuto affrontare e percorrere. Dall'altro lato è anche uno sguardo assolutamente immersivo. Volevamo sentire la fisicità dell'ambiente, per cui abbiamo cercato di valorizzare tutti quegli elementi naturali che in un bosco si possono incontrare, il fango, l'acqua, la vegetazione. Ci sono tantissimi flare in macchina che però non sono una scelta estetizzante, danno fisicità, materialità al contesto ambientale. Abbiamo cercato uno stile di macchina a mano che ci potesse permettere di essere agili, flessibili in tutti i contesti ambientali più assurdi, più impercorribili. Quando Kamal corre noi corriamo con lui, quando cade cadiamo a terra con lui, quando si arrampica su un albero o risale un ghiaione franoso, noi siamo sempre alla stessa distanza. Non era possibile usare Easy Rig, macchina a spalla. La macchina è tenuta sempre a braccia per poter variare costantemente e anche agilmente l'altezza. Il film è girato interamente in Alexa Mini. L'abbiamo alleggerita il più possibile. Abbiamo separato l'alimentazione, macchine accessori dal corpo della camera. Abbiamo tolto la loop, per cui lavoravamo con un monitor 7 pollici ultra bright. Abbiamo poi aggiunto tre maniglie in posizioni diverse sul cage della macchina, oltre a quella classica dell'Alexa, per poter cambiare impugnatura anche durante i piani sequenza. Ho scelto l'Alexa anche per le sue caratteristiche fotografiche. È una macchina che ha una latitudine di posa molto ampia. Abbiamo girato tutto il film all'interno dei boschi in piena estate, con rapporti di contrasto elevatissimi tra le ombre del sottobosco e la luce del sole che filtra tra la vegetazione. Ho girato tutto il film in ariro, impostando la macchina quasi sempre negli esterni giorno a 1250 ISO, a volte a 1600, per guadagnare uno stop sulle alte luci. Anche color science dell'Alexa mi sembrava la soluzione migliore per la vegetazione, che è molto verde, quando è colpita dal sole si satura terribilmente. Noi abbiamo girato a 2-3 feet di distanza, non di più dal volto del protagonista, per cui avere anche una morbidezza di microcontrasto per me era importante. Il lavoro di fotografia è stato fatto soprattutto in preparazione, nell'interpretazione della sceneggiatura e durante la fase di sopralluoghi. Dovevamo cercare di dare una scansione temporale alle giornate, il film racconta tre giorni e tre notti, per cui abbiamo cercato di spostare alcune scene, alcuni momenti della storia nelle prime ore della mattina oppure nel tardo pomeriggio. In fase di sopralluoghi, io ho visto tutte le location che abbiamo scelto in tutti gli orari del giorno, dall'alba al tramonto, cercando quelle finestre di luce più interessante, nelle scene un po' più statiche o magari in alcuni punti, in alcuni momenti dei piani sequenza. Abbiamo usato panni 6x6 bianchi per dare tridimensionalità e ridurre anche il caldo della vegetazione che si rifletteva sul volto del personaggio. Abbiamo usato panni neri di riempimento negativo, però anche queste operazioni che sono piuttosto semplici abitualmente diventavano molto complicate nei boschi, per cui con Vittorio Curti, che è il K-Grip del film, ci siamo studiati un sistema di carrucole per appendere i panni sugli alberi. con Aider in preparazione ci siamo confrontati molto anche sulle scene notturne. Mi ha detto subito esplicitamente io non voglio la notte cinematografica e questo rendeva molto complicata l'interpretazione di queste scene, perché noi giravamo nel fitto dei boschi dove non c'è nessuna luce giustificabile. Ho cercato di lavorare sulle luci di scena che potevano esserci, le torce, i fari del Defender. Abbiamo lavorato sempre in semi-oscurità, però chiaramente bisognava dare una lettura anche nei momenti di buio, per cui in quel caso abbiamo usato gli skypanel. C'è una sequenza in cui ho usato i 1200 diretti da lontano per dare un taglio laterale quasi lunare, ma in realtà giustificato anche dal continuo movimento delle torce e degli inseguitori. M18 rimbalzati su panni, 6x6, per dare un minimo di lettura nelle zone più buie. Europa è un film molto particolare, io lo definirei un film di confine nel vero senso della parola. Spesso si è dovuto lavorare fotograficamente ai confini, ai margini di quello che può essere considerato abitualmente il territorio più proprio della fotografia, per ottenere risultati interessanti.